musica 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 cosa state facendo facciamo un totem oh ce l'ha fatto qua si scivola no 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 andiamo rivoluzioni rivoluzione francese rivoluzione rivoluzione francese contro i di sola no ma che dai che sei un ma spara una pistola lì il letto attacca da un'altra parte tipo posso fare il napoletano carcerato ok voglio un ok date la gabbia è giù la gabbia voglio sapere i miei diritti da 9 a 1 laggiù nella gabbia con tutta sta gente che parla sembra veramente napoli prima di tutto dobbiamo eliminare qualche duro per fare anzi no prima di tutto come eliminare qualche duro? ragazza di filibustiere eccome guarda 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 andata quella parte 않는 su via ti ha fatto scappare lui ti ha fatto scappare lui tanto Ais;; l'uomo 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 dorme non piglia dorme apri no allora signori c'è un piccolo problema che poi ovviamente non conoscete ovvero che chi c'è qua nessuno non c'è nessuno qui tu sei qui perchè sei inutile devi morire morirei per primo tu pruiz io sono il più rispetto tu non sei chi sono io shut up tu sei qui perchè hai cercato di hackerare l'account di red uno dei tanti tu red sei qui perchè hai cercato di proteggere il tuo account non sapevo fosse reato lo sai che facendo così togli lavoro ai poveri hacker eh ma gli hacker così toglono lavoro a me chi c'è qua taghe che non ci sei sei qui soltanto perchè non sei italiano andiamo stronzo allora andate dentro sta gabbia apri ora voi dovete stare sotto di me chi non sta sotto di me muore come fai a ucciderci nooo adesso muore non vado non vado non vado porca troia eh 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 tembriamo dei quiciti che seguono la coppa di qua oh eh rimanete fermi qua fate entrare prima a me se non mi dispiace adesso vado faccio fare un bel giochino chi è andato via di la eh? nessuno chi è andato via di la rimanete fermi qua brutti bastardo via dentro non mi fa aprire la porta via dentro via dentro via dentro via dentro via dentro venga qui subito venga qui subito vieni qua subito vieni qua subito vieni qua subito vieni qua dove vieni figa è impossibile allora tu che sei no te ci muori tag te ci muori oh 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 fermi qua oh mio dio Prince volante mi avete intrappolato è caduto è caduto andiamo poi nelle armi ma come si fa ad aprire la porta delle armi adesso? eh 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 ah ah scappa 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 no sono incastrato ma io sono incastrato help eh ora si incazza aprile ok grazie sarai pronti per la canna del fucile oh no valeri mi diritti da prigioniero vieni fuori ovvero ogni giorno alle 2 avere bustiere di ketchup su su Sifrano vede il buco vede il buco vede il buco vede lì vede lì vcito che bello vado 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 AHAHAHAHAHA che peggio! Non so vi ... Atenzo, tag, non romperlo che cosa si è toccato questo? oh mio dio se qualcuno cade o muore che cosa c'è? ma poverino doveva finito di tirer ok fermo fermo, fermo, ok, abbiamo già vincitore venate, ehi, questo freno, ehi ma che ca... povero chi si avvicina più di due metri da me è morto come è morto? due metri fate un salto fatene un altro fatela un'altra volta fatela giravolta fatela un'altra volta no, no, che giravolta, non cercare di fare le rapide ok, è partita boom no ok, vediamo adesso boom fanculo ah, adesso è morto per te, non la metti caricata come si deve zic no, che culo boom, ora esploda aia, perché sono morto io? ok, guarda il mio premio salta, salta e siamo a due mi spiace, mi spiace vai schifo io oh, oh, vai, che è passito, è passito lo scraggio, guarda la pavola oh, vai, 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 vai Grazie a tutti.